filmalo allora allora lo diavolo si chiude sotto e chiude sotto che è una roba esagerata no 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 quasi mi ammazzo putrella niente di farlo stupido porca vacca quasi mi ammazzo vaffanculo vedi che lui infatti si è ammazzato vedi che quello è andato è andato lui io no ma lui è andato no 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 mi sono perso quasi mi ammazzo qua eh ascoltami a fare cioè in discesa in piedi intanto ti ha filmato e prendete e prendete i uricchiechi io lo stai riprendendo mi sono rimasto sul verticale questo a fare il cretino qua me l'ha fatto davanti ho pinzato quanto cazzo ho fatto come lui quasi vengo giù fino a qua coi denti porto diavolo cazzo mi si è chiuso a sotto e gli va davvero eh quasi mi ammazzo qua qua di culo va e adesso ti lo accendo?